Dopo il successo della prima stagione, il docufilm Trincee, ideato da Giovanni De Donà con il contributo di Giuseppe Tezza e Francesco Pomare, studiosi ed esperti della Grande Guerra e Dolomiti Production, brand di Telebelluno, Società Benefit, avrà una seconda serie. Dopo il successo riscontrato dalla prima serie di Trincee andata in onda ad aprile di quest'anno in prima serata il lunedì, Telebelluno era naturale che dovesse pensare anche a riproporla e per questo motivo abbiamo deciso di riprogrammare, partendo proprio da oggi, la nuova serie che andrà in produzione dai primi di settembre. Andremo in onda a partire da fine novembre ai primi di dicembre per altre 4-5 settimane. Tutto ciò si inserisce in un contesto di rinnovo totale del palinsesto di Telebelluno che dovrà essere sempre più rispondente a quelli che sono i criteri di innovazione e di cultura che vogliamo diffondere. Trincee nasce proprio dall'esigenza di raccontare le esperienze collettive ma soprattutto personali legate al conflitto mondiale combattuto sulle Dolomiti. La prossima stagione sarà registrata in autunno sulle tre cime di Lavaredo, sul Monte Piana e su tutti i luoghi delle nostre montagne che sono stati teatro della Grande Guerra. Parleremo di storie non comuni della Grande Guerra e soprattutto non di guerra combattuta ma della guerra vissuta sulla propria pelle e dalla popolazione. In più ci saranno degli argomenti che nelle nostre intenzioni vorrebbero unire tutta l'Italia. Quindi parleremo di soldati, di giovani che sono arrivati qua sulle Dolomiti un po' da tutte le zone d'Italia, dal sud, dal centro. Ci saranno delle storie davvero commoventi che, come ha detto il poeta Giuseppe Ungaretti, faranno ritrovare dopo un secolo gli italiani come un secolo fa si erano ritrovati nelle trincee della Grande Guerra. Dal tardo autunno trincee 2 sarà visibile su Telebelluno, sul canale 75 in Veneto e in provincia di Mantua e su Dolomiti Live TV, sul canale 81 in provincia di Belluno e sul canale 441 del digitale terrestre a livello nazionale sulle Smart TV, online sulle Web TV, sulla nuova app mobile e su Amazon Prime Video attraverso Fire Stick.